Alena Seredova si gode una bella passeggiata a Torino insieme al compagno Alessandro Nasi. Con loro c'è anche la piccola Vivian Charlotte e una coppia di amici. Purtroppo un'acquazione li sorprende e la 42enne si ritrova completamente bagnata. Non piove! No! Dai! Dai! Vai! Diluvia infatti, non piove! Una passeggiatina? Amore? Così? Dicevano che non piove al pomeriggio.